Dimenticare i dettagli dei sogni è normale. Sei tanto preoccupato. Mi chiamo Benno. Allegra, parte dai. Non rispondi, allora ti scrivo. Sto partendo per il viaggio che tanto ci siamo immaginati. Annoterò tutto sul blog, così saprai sempre dove trovarmi. So che pensi che sto scappando, ma non è così. Dammi solo un po' di tempo. Perché dovrei fidarmi di te? Siamo in due, ok? E nessuno di noi due è normale. Sono spaventata dalla gente. Dagli spazi aperti. Allora tutti i tuoi viaggi sono... Britti verso nord. Britti verso nord. Quindi, qual è il tuo segreto? Ne ho troppi. We, 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 down. Noi. 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 Grazie a tutti.